il fra un mese e poi in baggio non è io più adesso doveva star dentro trenta anni no adesso cosa fatti in baggio? tutti i minni e basta? ah la femmina? ah ti chiede dentro ancora? eh no ti chiede dentro ancora ti aspetta che abbia 65 anni perciappare la presione del belgio dopo la via che è oh è molto positivo è molto positivo è positivo che mi avete fatto in me ma no io non voglio guardare non voglio guardare qui non voglio guardare qui è che è limpido che è è che è limpido che è è limpido che non c'era No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eh no 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 cosi? Oh oh no cosi? Oh 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 no cosi? Oh comparenti! Tra 60 anni dite... 63 e tutti... 63 e tutti... E tutti... 63 e tutti... E questo è con i sei... Tra 60 anni? Tu venga... Comparienti! Rimo la fatulla, non sta passando, compadenti? No, come mi fa? Vai a occupare tutti i genitori, ma che rimo la fatulla, la fatulla è qui? Di carabinieri? Mi riprendimi la camera radio, eh? Tutto, era il rombo lì, ciao, benvenuto. Mentre te lo do, fra 60 anni, avevano qualcosa di poco a bere fra 60 anni, ma non c'è più niente del paese. Non sarebbe meglio che bevissimo adesso? No, andiamo a bere? Andiamo a bere? Eh, me lo ho detto io. Fra 60 anni, signora, fra 60 anni, avevano qualcosa di poco a bere? Grazie. Seguora a facoltarmi. No, no, e ora non sei pagato noi, papi, eh? È un bel augurio. Eh? È un bel augurio. Devi dove sei? È un baciato, perché mi mette in suggestione che è una cosa. Sì, ma non ciucciare però, eh? È un baciato, vuol dire no? Oh, non sta! Aspettami, aspettami. No, normalmente come... Come, come? Come ne vuoi. Come ne vuoi. Come ne vuoi. No, 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 no. È un baciato. È un orso. Ma, ma... Così? Oh... Dai, stavolta le la meglio. No, se te patti, se te patti. No, ma, ma... Sia, stavolta le la meglio. Ma, ma... Ma, 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 ma... Gia, ma, ma. Ma, ma... Ma, ma, ma... Hashtagat, garata, catirà. Buonan ben quedito. Grazie a tutti.